Allora a questo punto proviamo a mettere a frutto questi discorsi un po' teorici che siamo tenuti in compagnia per le ultime due o tre ore, applicandole all'obiettivo che si eravamo dati, cioè quello di riuscire a fare un controllo di processo e anche qua le metodologie sono molte, noi quella che abbiamo scelto di adottare in questo corso è quella della definizione di cosiddetti KPI, cioè gli indicatori chiave di processo. Questa scelta mette già subito l'enfasi sul processo, quindi noi non stiamo misurando in generale l'azienda, in generale un servizio, in generale un prodotto, ma stiamo misurando ciascuno dei processi di cui l'azienda è composta. Ricordiamo quando all'inizio parlavamo di processi interorganizzativi, processi interfunzionali o progetti intrafunzionali, cioè che coinvolgono o meno varie funzionalità, varie funzioni organizzative all'interno dell'azienda, quindi noi non stiamo cercando di misurare come lavora una certa funzione organizzativa, ma come funziona quando ci affluisce correttamente un determinato processo che poi può coinvolgere varie risorse. Quindi il punto di vista è il processo, un processo che è una catena di attività, una serie di attività governate da una certa logica, attività che sono compiute a responsabilità di alcuni, di diversi attori, che possono appartenere alla stessa organizzazione, alla stessa unità funzionale oppure unità funzionali diverse. Il processo noi l'abbiamo sempre modellato come una macchina che produce un risultato a fronte di una richiesta, quindi questa parte qua in basso. E noi vogliamo andare a misurare, a valutare il funzionamento di questa catena, richiesta, serie di attività, risposta. È chiaro che ci sono molti modi in cui poterlo osservare, in cui poterlo valutare da molti punti di vista diversi. Allora noi cerchiamo di costruirci uno schema generale attraverso cui possiamo decidere da quali punti di vista osservarlo e in funzione di come è fatto il processo andare a poi definire degli indicatori specifici che siano innanzitutto smart. Adesso questa è una sigla per dire che un indicatore di processo dovrebbe avere perlomeno queste cinque qualità. La prima è un indicatore specifico, che abbia una specificità rispetto all'obiettivo di business che questo processo sta gestendo. Non vado a misurare una cosa che non c'entra niente o che è marginale o che è poco importante rispetto alla funzione che ha quel processo. Quindi questa è la cosa più importante di quel processo. Quali sono le qualità essenziali, le caratteristiche essenziali? Quali sono le cose più importanti perché quel processo lavori bene? E di solito le cose più importanti di un processo non è detto che siano le più facili da misurare o le più standard da misurare. Bisogna entrare nel merito specifico e dire va bene in questo caso qui che cosa mi serve? Vedremo tra un attimo che questa specificità dipende anche da chi guarda dal punto di vista di chi. Se io un processo lo guardo dal punto di vista dell'azienda che lo svolge o dal punto di vista del cliente che ne acquista i prodotti vedrò cose diverse sicuramente. Saranno più importanti aspetti diversi. I diversi stakeholder hanno diversi punti di vista sui processi. Quindi per ogni processo, per ogni stakeholder mi chiedo quali sono gli elementi più importanti di maggior specificità, di maggior rilevanza. Misurabile va da sé quasi. Cioè se io voglio definire un indicatore per il quale però non ho specificato o non sono in grado di specificare o magari non può esistere un meccanismo di misurazione o magari un meccanismo di misurazione fattibile, economico, allora quell'indicatore non vale a niente. Se io inventassi un indicatore che prevede di andare a chiedere a un operatore dopo ogni operazione che ha fatto come si sente, per dire la stupidaggine più stupida che mi è venuta in mente, potrebbe essere l'indicatore migliore di questo mondo teoricamente, ma in pratica non è fattibile. Mi raddoppia i costi praticamente, ho bisogno del doppio di personale semplicemente per prendere questa misura. L'operatore è più qualcuno che gli ompie le scatole per chiedere continuazione di domande. Oppure l'esempio che già intanto era uscito in queste lezioni, sapere quante persone ci sono nelle aule, è un indicatore importante, però si può misurare in astratto sì, basta che in ogni aula ci sia una persona e conti chi entra e chi esce, o conti in un certo momento quante persone ci sono, ma il costo di questo tipo di misurazione è eccessivo e quindi nella pratica non è un metodo di misura praticabile. Quindi la misurabilità è sì, la misurabilità tecnica, materiale, sia una misurabilità economica. Un obiettivo deve essere raggiungibile, achievable. Cioè è inutile che io vada a misurare qualche cosa che tanto non posso cambiare, su cui tanto non posso intervenire. deve essere qualche cosa il cui output, il cui valore sia influenzabile dal processo, dal fatto che il processo venga svolto bene, venga svolto meglio, dal fatto che si possa intervenire sul processo. E quindi ho delle leve per poter forzare quell'indicatore. Io, che ne so, se fossi il Politecnico non potrei dare come indicatore A, ma io voglio avere degli studenti giovani. Quindi mi do come indicatore l'età media degli studenti che si scrivono il primo anno. È facilissimo da calcolare, abbiamo tutti i dati di nascita. Costa niente calcolarlo, è specifico per l'obiettivo. Ma poi, se dico voglio avere gli studenti che siano più giovani, che abbiano un anno in meno, non potrò mai farlo. Perché non c'è nulla nel mio processo che permette di regolare, di modificare quel valore. Non dipende da me, dipende da altri fattori. Quindi è inutile che io vada a misurare un elemento il cui valore non dipende da me. E quindi se, in questo caso, è un valore fisso per legge, vi potete iscrivere solamente dopo che avete un diploma di scuola secondaria. E quindi non si può, fare tanto, magari c'è quello che è andato a scuola un anno prima, c'è quello che è rimasto bocciato, c'è una piccola oscillazione, ma su quello non si può intervenire più di tanto. Quindi non è un indicatore che è utile. Mi sto ponendo degli obiettivi futili, direi. Perché non sono comunque obiettivi che io posso raggiungere, perché non sono, non dipendono da me. L'indicatore deve essere rilevante, deve rappresentare qualche cosa di rilevante, di importante all'interno del sistema. E l'ultima voce è il timely. Deve essere possibile ottenere il valore dell'indicatore in tempo, con un tempo ragionevole. Mi viene in mente a questo proposito, se non sbaglio, la fondazione Agnelli o qualcosa di questo genere, qualcuna di queste fondazioni che ogni anno redige la statistica delle scuole superiori, scuole secondarie, non so perché è venuto questo esempio in mente. Mirata ai ragazzi di terza media, essenzialmente, che devono scegliere la scuola superiore. Sul Piemonte fanno una mappatura di tutte le scuole dicendo questa scuola è migliore di quest'altra, per queste caratteristiche, eccetera. Una bella relazione. Peccato che tipicamente esce dai due ai tre anni in ritardo rispetto ai dati di cui parla. Allora, va bene, ma non serve più a niente, perché in due o tre anni magari le caratteristiche di quella scuola sono cambiate. Alcuni corsi di studi sono chiusi, ne hanno aperti degli altri, quindi non serve a niente, non serve più. Quando arriva l'indicatore è troppo tardi. Ah, facciamo una bella indagine con gli utenti, un bel questionario, una bella campagna di indagine, va bene. Quando avremo i risultati? Eh, tra 8 o 9 mesi. Allora, lasciamo stare. Se è un problema che ho oggi, non posso aspettare 8 o 9 mesi per individuare le cause. Devo trovare un altro modo. Quindi c'è anche questo problema in più di avere degli indicatori su cui meccanismo di calcolo dia dei valori in tempo per poter intervenire, confrontabili col tempo di reazione del sistema. Questo può essere o perché i due esempi che ho fatto sono esempi che, diciamo, implicano una rielaborazione di un gruppo di lavoro o di una serie di dati. Oppure implicano di contattare molte persone, eccetera. Quindi il processo di misurazione è lungo, che è di solito la causa dei ritardi. Se abbiamo delle misurazioni più automatiche, invece, di solito il dato è disponibile, tra virgolette, subito. A meno che il dato stesso da misurare non richieda di essere valutato, che non so, su un trimestre. E allora mi chiedo, mi serve avere un dato che è vecchio di 3 mesi? Dipende da che dato è. Quindi chiaramente per ogni tipologia di dato, tipologia di indicatore, avrò degli intervalli di tempo entro i quali questo valore utile e oltre i quali non è più utile. Quindi evitiamo di complicare troppo le cose, perché sennò avremo informazioni che ci dicono che due anni fa stavamo facendo bene. Nel frattempo magari abbiamo chiuso. Allora, proviamo a ragionare sulle tipologie di indicatori che possiamo definire. Allora, se facciamo riferimento a questo diagramma, ci sono tre luoghi in questo diagramma in cui possiamo andare a porre l'attenzione. Possiamo definire degli indicatori che vadano a valutare semplicemente l'output prodotto. Cioè, vado a vedere il risultato del processo e vado ad analizzare com'è questo risultato del processo. Non mi chiedo altro. Quindi se faccio bulloni, vado a vedere i bulloni che ho prodotto. La quantità, la qualità, la destinazione, i volumi, tutte queste belle cose. Questi indicatori sono indicatori che chiamiamo di qualità. Non è la stessa cosa della qualità, nel senso di norme ISO per la qualità, che poi ci vanno a valutare il processo, il sistema di sicurezza della qualità, ma indica solamente che vado a vedere l'uscita. Io poi questi bulloni posso fare eventualmente tutti a mano, fatti fare da un artigiano esperto. Quindi ci metterò sei anni per farli, ma non mi importa, non lo vedo. Io qua vado a vedere solamente ciò che esce dal processo, in questo insieme di indicatori. Oppure, altri indicatori, indicatori di servizio, che vanno a confrontare una richiesta con un output, con una risposta. Quindi indicatori di servizio analizzano che relazione c'è a scatola nera, senza guardare dentro cosa succede, tra le richieste che arrivano e le risposte che il processo dà. Ad esempio, se la richiesta mi è arrivata il primo gennaio, la risposta in che data mi arriva? Quanto è il ritardo di produzione? Se ho chiesto 100 pezzi e lui mi ne ha fatti 90, c'è un problema. Quindi in che relazione stanno la richiesta con la risposta? Questi li chiamiamo indicatori di servizio, cioè come risponde il processo rispetto alle richieste che arrivano dall'esterno. Poi c'è un certo tipologia, una terza tipologia di indicatori che è l'indicatore di efficienza, che invece questa volta vanno a vedere dentro il processo e cercano di valutare come il processo risponde alle richieste. Quindi mentre quando parlavamo di che pieghi di servizio abbiamo detto vedo il processo come una scatola nera, non so cosa fa dentro, vado solamente a vedere ciò che entra e ciò che esce, qua invece vado a vedere solamente dentro come sto lavorando. E quindi per produrre quell'output, qualità, a fronte di un certo input, servizio, cosa devo fare? rigiorse, quante persone, quanto tempo, quante macchine, quante materie prime a fronte di quella richiesta. E quindi ho degli indicatori di efficienza che mi dicono quanto si lavora, quanto e come, si lavora all'interno del processo per ottenere quell'output. Quindi sono tre famiglie diverse di indicatori a seconda di che cosa vogliamo osservare. Dal punto di vista esterno, diciamo così, del cliente, sono interessanti sia i capi di qualità che di servizio, mentre quelli di efficienza di solito non interessano così tanto. Dal punto di vista di chi eroga ai servizi, invece, sono importanti tutti e tre, soprattutto quelli di efficienza e di servizio, ad esempio. Dipende da chi guarda quali sono gli aspetti che vede maggiormente. Ma questa è solamente una macro caratterizzazione. Adesso andiamo all'interno di ciascuna di queste categorie a immaginare che cosa ci può essere. Perché non ho messo nulla sulla richiesta? Perché la richiesta non dipende da me. Perché se mi arrivano tante richieste, mi arrivano poche, mi arrivano belle, mi arrivano brutte, mi arrivano fatte bene, mi arrivano fatte male, non è un fattore su cui questo processo può intervenire. Per avere più richieste, o averle fatte meglio, o avere meno errori, avere più precisione, o quello che volete nelle richieste, devo agire sui processi a monte che generano queste richieste. Quindi se mi arrivano delle richieste fatte male, in cui mancano informazioni, eccetera, non è un problema di questo processo che le deve elaborare. È un problema di qualità del processo precedente. Perché queste saranno l'output di un processo precedente. E allora sto andando a vedere che questi oggetti hanno una qualità insufficiente, sono fatti male, eccetera. Oppure, se ho poche richieste, io ho una bellissima azienda ma non ho ordini. E cosa ci posso fare? Non è che migliorando l'efficienza dell'azienda o del reparto produttivo mi arriveranno più ordini. Così. Quello dipende da tutti gli altri fattori. Quindi io sull'input non posso agire lavorando all'interno di un processo che sta a valle. Se sono all'interno di un processo posso agire su come viene recepita la richiesta, su come viene prodotto l'output e su come viene elaborato al suo interno. Ma non su ciò che mi arriverà fuori. Quindi questo non ha senso misurarlo. Sarebbe una misura su cui non posso agire. Che non dipende da qualunque. Se ho la responsabilità di questo processo e mi dicono cerco di aumentare la qualità delle richieste e gli dicono sei fuori. Chiedilo a chi ha responsabilità di generale queste richieste. Qui non ci sono KPI in ingresso. E quindi noi abbiamo una varietà di tipologie di indicatori che abbiamo raggruppato, adesso ci entriamo nel dettaglio, in queste tre grandi categorie qualità, servizio ed efficienza. Quindi qualità uguale prodotto in uscita, servizio uguale confronto tra ingresso e uscita, efficienza significa uso delle risorse essenzialmente per produrre questo servizio. E oltre a questi ci possono essere degli indicatori che abbiamo chiamato generali, che non sono veri e propri KPI, ma sono degli indicatori di riferimento che ci servono per interpretare o per calcolare gli altri indicatori. ad esempio tra indicatori generali possiamo definire il volume di input, cioè quanti ordini arrivano, quante richieste arrivano, poi possono essere ordini, possono essere altri tipi di richieste. A questo abbiamo appena detto che non è un KPI interessante, perché non dipende da me. Però sapere quante richieste arrivano mi serve per poter valutare l'efficienza del sistema, dove vado a valutare quanto mi costa elaborare ciascuna richiesta. Allora se non so qual è il numero di richieste che arriva non posso calcolare il costo unitario di ciascuna richiesta, perché posso calcolare il costo ma non so qual è il denominatore rispetto a quante richieste sono arrivate. Analogamente il volume di output, adesso dipende, se questo è un puro servizio arriva una richiesta di input e erogo un servizio in output, però magari arriva una richiesta e genero mille uscite, mille output, quindi non è detto che siano lo stesso valore numerico. Anche questo, volume di output, è vero che è un output, ma non lo decido io, perché se un ordine mi dice fammi cinque pezzi così, io cinque ne devo fare. Quindi quale sia il volume di output desiderato, cioè quanti output devo produrre, non decide il processo, lo decide l'input, la richiesta in input. Quindi questo è di nuovo un altro indicatore generale, perché non dipende da quanto bene lavori il processo. Il volume di output previsto deve essere coerente con le richieste arrivate in input, punto. Non è che se me ne chiedi cinque, io ne faccio quattro perché così lavoro meglio. No. Non è sotto controllo del processo, non è che posso avere obiettivi diversi, obiettivi specifici sul volume di output, perché questo deve tracciare esattamente il volume di input, le tipologie di richieste in ingresso. Risorse umane. Quante persone ho a gestire questo processo? E questo è di nuovo un fattore esterno. Su questo forse si può intervenire, ma non intervengo io che sono responsabile del processo. Se mi accorgo che il mio problema, il problema del processo è che ho troppe e poche risorse umane, dovrò coinvolgere qualche altra funzione aziendale, tipo risorse umane, per assumere persone o farle trasferire. ma è comunque qualcosa che richiede una visibilità esterna al processo. Non è migliorando il processo che aumentano le risorse umane. Magari migliorando il processo riesco a usarle meglio quelle risorse umane. D'accordo. Ma il numero di risorse umane che ho a disposizione non dipende dal processo. È, come dice il termine, una risorsa che viene messa a disposizione del processo. Analogamente per risorse materiali. I risorse materiali possono essere macchinari, possono essere soldi, possono essere materie prime, di cui il processo può disporre, che può usare. ma vengono fornite dall'esterno. Quindi sono tutti fattori sui quali chi gestisce il processo non ha influenza diretta. È ovvio che ci serve un macchinario in più, può andare a rompere le scatole per ottenerlo, per farlo acquistare, eccetera. Ma non entra nell'ottimizzazione del processo questo. Entra in una logica più ampia di, diciamo così, l'evoluzione dell'azienda. E così via. Quindi abbiamo una serie di indicatori che non sono KPI veri e propri, perché non sono indicatori sul cui valore possiamo agire noi dall'interno del processo. Sono poi indicatori che è utile misurare, perché ci servono come base di calcolo per gli altri indicatori veri e propri. Quindi quando diremo definiamo un KPI, sarà sempre sottinteso un KPI non di tipo general. Magari un KPI di tipo efficienza. Poi ci accorgiamo che per definire un KPI di tipo efficienza ci serve definire un indicatore di tipo volume. Va bene, lo scriviamo, ma quello non conta. Ok? Quando all'esame vi diremo scrivimi, definisci tre KPI, sono tre KPI di questo ramo di destra ed eventualmente l'indicatore generale di supporto che ti servono per definire quei KPI, ma questi non contano. E gli indicatori di efficienza, vabbè qui ci sono alcuni esempi di KPI generali. Queste tabelle sono fatte così. Sulla sinistra, cioè sulle righe, sono indicati volumi di ingresso, volumi di uscite, risorse umane, queste voci qua. Sulle colonne ci sono alcuni esempi di tipologie di aziende, tipologie di processi di cui stiamo parlando. Quindi la prima colonna parla della prenotazione di un hotel. Allora in input cosa posso misurare? Posso misurare il numero di richieste di prenotazione, il numero di richieste di modifica di una prenotazione esistente, il numero di richieste di cancellazione di una prenotazione, eccetera. Valutare, questi sono tra l'altro indicatori su scala assoluta, i volumi in ingresso di richieste per i vari tipi di richieste che possono arrivare. Al processo, non all'hotel, al processo di prenotazione dell'hotel. Qui stiamo ragionando sul singolo processo. Quello è uno dei tanti processi che gestisce l'hotel. L'output, quindi cosa c'è in output a un processo di prenotazione? Il fatto che le istanze sono prenotate. Anche questo, un indicatore tipo assoluto, le istanze quanti impiegati ho a tempo pieno, quanti impiegati ho a tempo parziale dedicati al processo di prenotazione. Quando facciamo questi calcoli con le risorse dobbiamo sempre prendere la fetta di tempo che ciascuna persona dedica a quel processo. Non mi interessa che un impiegato sia lui a tempo pieno, assunto a tempo pieno. Se gestisce quattro processi diversi, in ciascuno di questi processi compare in modo parziale. E di questo devo tenere conto nel valutare le risorse impiegate. Le risorse materiali sono ciò che serve per gestire le prenotazioni. Allora ci sarà un centralino, ci sarà un software che gestisce le prenotazioni, magari c'è le royalties che pago, l'iscrizione che pago a booking.com, eccetera, eccetera, la carta, le fotocopie, tutto ciò che serve per gestire il processo. E lavora su un inventory, quindi una base di materiali che vengono gestiti, che sono in questo caso le stanze da prenotare. da prenotare. Quindi questo diventa di nuovo una limitazione alla disponibilità di materia prima, che sono le stanze in questo caso. Ecco, questo è un esempio. La seconda colonna parla della manutenzione di, del processo di manutenzione di un ascensore. E dove a questo punto l'input sono le richieste di manutenzione ordinarie, quindi una volta al mese, una volta di tre mesi viene a fare i controlli, oppure quelle straordinarie. C'è un tizio bloccato dentro, per favore venite subito. L'output è il fatto che i servizi di manutenzione siano stati fatti. Le risorse umane sono ovviamente il personale che esegue queste attività di manutenzione e quindi perché parliamo di manutenzione parliamo solamente del personale tipo tecnico. Non ci interessa se al telefono risponde qualcuno. Questi servizi dipendono da quante persone ho sul territorio. E così via. qui sono processi di tipo diverso. Questo invece il terzo è un processo di tipo vendita, vendita in un supermercato. Quindi il volume nel processo di vendita è gli oggetti che ho venduti, quindi le richieste di vendita praticamente, cioè il carrello delle persone. E in output ho il fatto che il prodotto è stato venduto, il fatto che l'ho fatturato, l'ho ricevuta, eccetera, eccetera, e questo viene gestito dal personale usando delle risorse che sono lo spazio all'interno del negozio, che è lo spazio, le risorse, gli scaffali, eccetera, eccetera, e il tutto per gestire un inventory di prodotti. Quindi posso dare in output solamente ciò che ho in inventory, stessa cosa succedeva qua. Posso far prenotare solamente le stanze che ho a disposizione. Mentre nel caso di servizi, sto erogando un servizio immateriale, quindi non ho un inventory di servizi disponibili che posso dare in questo momento. Questi sono limitati non da una quantità materiale, ma dalla disponibilità di prodotti umani. Mentre in questo caso, negli altri casi, dove ho anche un bene che viene distribuito, la capacità di produzione è limitata sia dalla capacità umana, dalla risorsa a disposizione, che dall'inventory disponibile. Qui abbiamo invece un altro esempio di processo di vendita, in questo caso è un libro online e non sul supermercato, e quindi le risorse materiali sono di tipo completamente diverse, ad esempio, no? Le risorse umane tendono a non essere coinvolte direttamente nel processo di vendita, ma più nel processo di procurement, di acquisto, di distribuzione, eccetera. Questo invece è un processo amministrativo. Ottenere la licenza per un edificio, quindi pensiamo all'ufficio all'interno del comune che deve autorizzare le licenze di costruzione. E allora anche qua, di nuovo, un processo puramente, è un servizio puro, non si basa su dei beni, è vincolato, qui c'è altre risorse, le leggi, le normative, e, vabbè, anche qua entrano in ingresso alle richieste e escono in uscita le approvazioni di queste richieste, date da un certo numero di impiegati, no? Quindi, qui di nuovo, è una descrizione in generale dei volumi, della struttura, delle caratteristiche del servizio. Non mi dice, avere questi numeri praticamente non mi dice se il servizio sta funzionando bene oppure male. Sono anche i piedi generali, mi danno la dimensione del processo di cui sto parlando. Invece, cominciamo a entrare nel vivo quando parliamo di, ad esempio, indicatori di efficienza. Allora, a fronte, noi abbiamo fissi il volume di ingresso, fissi il volume di uscita, quindi so che cosa mi hanno richiesto, so che cosa devo produrre. Quali sono le cose che posso misurare? Posso misurare quanto mi costa, o quanto bene sono capace a produrre quel determinato volume di output a fronte di quelle richieste in input. E quindi, i KPI di efficienza sono tutti del tipo costo, una certa tipologia di costo, fratto una certa tipologia di risorse. Cioè, quanto bene faccio rendere le risorse che ho a disposizione. Questa è l'efficienza. L'efficienza non è produrre di più, è a parità di quanto produco. Quanto viene speso? Perché produrre di più non dipende da me, dipende dal volume di output che è fisso. Per un determinato volume di produzione, quanto, quante risorse sto impiegando. Quindi, posso pensare a un costo unitario, se ho delle materie prime, ad esempio, oppure uso dei servizi a pagamento, faccio il costo totale di quanto viene speso, rispetto al volume di ingresso, all'input volume, oppure rispetto all'output volume. Quindi posso vedere qual è il costo per ogni ordine che ricevo, oppure il costo per ogni unità che ho prodotto. Questo non è ancora un KPI, è una famiglia di KPI, perché dipende che costo vado a misurare, che tipo di volume vado a considerare. Abbiamo visto anche prima che il volume, anche il volume di ingresso, poteva essere diverso. Potevano essere diversi tipi di richieste, no? E diversi tipi di output. Però il freno generale è, tra i KPI di efficienza ci sono i costi, costi unitarie ovviamente. Dato un certo volume. Quindi magari mi accorgo che i costi unitari sono alti perché il mio volume è basso. perché sto impiegando tante risorse e non ho abbastanza ordine e quindi alla fine ho un'efficienza bassa. Oppure, quindi quando mi rapporto ai volumi sto parlando di costi unitari. Quando mi rapporto alle risorse sto parlando di produttività. Cioè, per produrre un determinato volume, quante risorse impiego? Dove, come risorsa, devo indicare la risorsa effettivamente utilizzata. Quindi, io per ogni ora di lavoro di una determinata funzione, un'ora di lavoro contribuisce a produrre cinque pezzi in uscita. Quindi sono cinque pezzi all'ora lavorata. Il volume può essere in pezzi, può essere in euro, può essere in servizi erogati. Il volume di output, tendenzialmente, vado a visualizzare il volume di output rispetto a uno spaccato di una risorsa che viene usata. Quindi magari il mio processo si basa su una macchina costosissima, allora vado a vedere per ogni ora di lavoro di questa macchina, quanti euro produco, fatturo, oppure quanti pezzi produco. Quindi quanto una risorsa è un investimento, che sia una risorsa umana, che sia una risorsa materiale, quanto produce questo investimento, in termini di volume di output, misurato in pezzi, misurato in soldi, misurato... Quindi è sempre una frazione tra un volume, una tipologia di volume di output e una tipologia di impiego di una risorsa. Ma le risorse sono tendenzialmente costanti, ma non è detto che siano tutte utilizzate bene. Quindi c'è un'altra famiglia di indicatori di efficienza che ricadono nella categoria dell'utilizzo. Le risorse che ho sono tutte utilizzate bene? Se ho la macchina costosissima, quante ore... L'ho pagata un fracco. Quante ore al giorno lavora questa macchina? Rispetto a quante ne potrebbe lavorare? La sto facendo lavorare 24 ore al giorno? Ricordano gli articoli sui giornali, che poi non si sa mai se sono veri o no, dell'ospedale, tra dei tali, che ha comprato la nuova macchina per fare l'attacco, la risonanza magnetica, eccetera, l'ha pagata 5 milioni di euro e lavora solo 4 ore al giorno, perché l'impuratorio è aperto solamente quelle 4 ore al giorno. Allora, in questo caso, un'utilizzazione della risorsa molto bassa. Qual è l'utilizzo effettivo della risorsa rispetto a quale sarebbe l'utilizzo possibile della risorsa, cioè la disponibilità totale di quella risorsa. Nel caso di una rossa umana, io ho una persona dedicata a un servizio, a uno sportello, ma per la maggior parte del tempo in quello sportello non c'è nessuno. Allora, magari quella persona fa solo 2 ore al giorno in quello sportello, ma in quelle 2 ore quant'è l'utilizzo, è bruttissimo parlare così delle persone, scusatemi, è colpa di gestionali che hanno inventato questi termini, risorsa, utilizzo. Qual è l'utilizzo effettivo di quel tempo di quella persona? Rispetto al tempo che ha disponibile per svolgere quella funzione, poi magari quella persona in altre parti della giornata fa altre cose e non c'entra niente, non andiamo a valutare qui, in questo processo. Quindi sia parlando di risorse umane, sia parlando di risorse materiali, ci dobbiamo chiedere se abbiamo, diciamo così, ottenuto con certi costi la disponibilità di una risorsa, se questa disponibilità viene utilizzata, non dico al 100%, sarebbe sbagliato, quasi qualunque tipo di risorsa utilizzata al 100%, perché poi non hai margine per i guasti, non hai margine per gli errori, non hai margine per le rilavorazioni, non hai margine per le manutenzioni, però una percentuale sufficientemente alta. Anche qua, la risorsa disponibile è un indicatore generale. La risorsa effettivamente utilizzata è invece una misura che faccio dentro il processo, dipende da come sta lavorando il processo. Quindi vedete che questi indicatori di efficienza sono sempre un rapporto tra due indicatori, uno dei quali è un indicatore generale. Nel primo caso, il volume di ingresso o il volume di uscita sono indicatori generali, mentre il costo dipende da che cosa faccio dentro, il processo, quindi è questo su cui posso lavorare, però il costo in assoluto non mi dice nulla se non so quanti prodotti sono stati erogati con quel costo, a fronte di quella spesa. Anche la produttività, io ho un volume che è un indicatore generale e fratto le risorse utilizzate che invece dipendono dal processo. Analogamente l'utilizzo è le risorse utilizzate, che questo use resource qua e questo risorse della produttività sono la stessa cosa. Semplicemente faccio rapporti in modo diverso, qui lo rapporto invece alle risorse disponibili che sono invece un indicatore generale. Quindi gli indicatori generali mi servono a questo, a dare il termine di paragone degli indicatori effettivamente interni nel processo per renderli interpretabili, altrimenti ho dei valori assoluti che non mi dicono nulla. Ho aumentato i costi, sì ma perché sono aumentati gli ordini o perché hai cominciato a sprecare? Se non ho rapporto dagli ordini i costi non vogliono dire nulla. Allora se proviamo a spalmare sui tipi di risorse che sono l'ingresso, l'uscita, le risorse umane, gli inventori, il tempo è una risorsa che non avevamo citato prima, cioè le 24 ore della giornata non è che posso avere le 25, quello è una risorsa limitata, è un tipo di inventory molto particolare. Provo a incrociare i vari tipi di risorse con le tre diciamo così, categorie di indicatori di efficienza trovo alcuni indicatori abbastanza ricorrenti. ad esempio se nel campo dell'inventory, quindi del magazzino posso definire qual è il fattore di carico del magazzino, quindi qual è la giacenza media, il riempimento medio, ho aggiunto io medio, il fattore di riempimento di un magazzino. Perché mi dice, applico il concetto di utilizzazione, quindi quant'è la risorsa utilizzata rispetto a risorsa disponibile, cioè a quanti scaffali sono pieni rispetto a scaffali totali che ho. Quindi in questo framework generale ci ritroviamo altri tipi di misure che siamo abituati a vedere, le rileggiamo semplicemente in questo schema generale. Questa è la produttività degli impiegati, i pezzi prodotti rispetto al numero degli impiegati che ho, è il valore più grezzo di produttività che possiamo dare. la produttività riferita al tempo è il tempo speso, quanto tempo della giornata è stato speso, qui non mi chiedo da quante persone, da quante macchine, eccetera, ma proprio il tempo che ho impiegato per produrre un'unità di output. Qui a denominatore c'è sempre un volume, qua in questo caso sempre una risorsa disponibile. e qui l'utilizzazione del fattore tempo, cioè qual è la percentuale del tempo produttivo per il mio processo rispetto invece alla percentuale di tempo in cui il tempo passa ma il processo non sta producendo. Cosa di questo genere. E beh, poi ci sono, vabbè, questi costi unitari che sono la cosa più semplice. Perché ricordo direttamente dalla definizione. Qui noi abbiamo queste categorie generali che poi via via le applichiamo variando il tipo di risorsa e troviamo dei tipi di indicatori magari alcuni di questi hanno anche preso un nome perché sono ricorrenti in certi ambiti e poi questi tipi di indicatori li dobbiamo poi applicare al singolo processo dove acquisiranno alcuni di questi acquisiranno un certo significato altri invece sono totalmente irrelevanti per un certo tipo di processo. Qui stiamo cercando di ragionare aprirci un po' la mente per vedere le varie tipologie di misure che si possono prendere. Vabbè, qui saltiamo perché gli esercizi li facciamo martedì che siamo più freschi. Che pie di qualità? Allora, i che pie di qualità dicevamo sono quelli che dipendono solamente dal prodotto. quindi ignoriamo le richieste ignoriamo i volumi ignoriamo il processo produttivo ignoriamo le risorse andiamo solamente a guardare il prodotto il prodotto o servizio prodotto che può essere un bene o un servizio come dicono i gestionali. allora io il prodotto lo posso osservare in tre momenti diversi della sua vita il primo momento è quando nasce cioè nel momento stesso in cui il prodotto bene o servizio esce dal processo quando è nuovo quando lo vendo allora in quel caso ciò che mi interessa è che il prodotto che sta uscendo abbia le caratteristiche che deve avere funzioni deve funzionare non deve essere rotto deve avere se è un prodotto meccanico le misure all'interno delle tolleranze opportune deve essere fatto delle materiali fatti con diciamo così con le caratteristiche opportune se è un servizio deve funzionare io chiamo un tecnico per attivare la DSL e quella DSL nel momento in cui viene attivata deve funzionare alla velocità prevista per quel tipo di prodotto quindi queste sono tutte caratteristiche che chiamiamo di conformità cioè il prodotto è conforme rispetto alla sua descrizione cioè se ho pronotato un mouse no se l'ho pronotato perdono se il mio processo produce un mouse a tre bottoni ne sono usciti tre ne sono usciti due di bottoni il peso è quello che è previsto dalle specifiche tecniche quindi requisiti di conformità potete immaginarvi una scheda tecnica di un prodotto e andate a confrontare il prodotto è facile pensare a un bene il prodotto che avete finito di costruire con le caratteristiche tecniche questo chiunque lo può valutare anche se non sa come è stato prodotto quel bene se non sa qual è stato il processo a monte prendi il prodotto in mano e lo guardo e dico questo qui tu sei il prodotto codice 137 andiamo a vedere la scheda 137 che ci dice cosa dovresti essere che caratteristiche dovresti avere che specifiche dovresti avere e verifichiamo che queste specifiche siano corrette e quindi potremo avere come indicatore il numero di elementi che sono conformi o che non sono conformi a queste specifiche o che non sono conformi ad alcuni aspetti di queste specifiche quindi il numero di pezzi che non sono conformi per dimensioni quelli che non sono conformi per prestazioni velocità eccetera questi sono dicevo chiunque prende in mano l'oggetto è in grado di dire se quell'oggetto è conforme oppure no io qua ho preso una bottiglietta d'acqua sopra c'è scritto 0,5 litri chiunque può prendere la bottiglietta e misurare se davvero ci sono 500 millilitri d'acqua dentro è una conformità rispetto a quanto è stato dichiarato per questo prodotto rispetto a quanto è stato dichiarato per questo prodotto attenzione che qua ci inganniamo sempre non rispetto a ciò che ho chiesto io perché se io lo vediamo tra un attimo se io ho chiesto un'acqua naturale e mi hanno dato un'acqua gasata non è un problema di conformità perché se l'acqua gasata che mi hanno dato c'è scritto sopra l'acqua gasata ed è giusta è corretta del peso dell'agrazione eccetera eccetera giusta quel prodotto è conforme è un problema di servizio che mi ha dato un output a fronte di una richiesta di input diversa ok quindi non stiamo dicendo se mi ha dato l'oggetto sbagliato non è un problema di qualità ma se l'oggetto qualunque esso sia rispetta le caratteristiche che deve avere poi il fatto che mi dia l'oggetto sbagliato lo vediamo quando parliamo dei KPI di servizio ok quindi questo è il ragionamento che facciamo su l'oggetto appena prodotto ma questo attenzione lo possiamo pensare sia in termini di ingresso cioè le materie prime che entrano ne posso valutare la conformità semi lavorati intermedi al processo a un certo punto ne valuto la conformità l'output finale il prodotto che sta per uscire dal processo lo valuto il concetto è sempre lo stesso ho un oggetto un bene un servizio in un certo stadio che deve avere in quello stadio certe caratteristiche le posso andare a misurare essenzialmente vado a valutare quante volte le caratteristiche sono o non sono conformi alle richieste e questo è al tempo zero poi posso osservare la qualità del prodotto nel tempo la affidabilità reliability è la capacità del prodotto di mantenere nel tempo la conformità che aveva quando è stato creato cioè io ho comprato un prodotto che è appunto un mouse oggi funziona domani funzionerà ancora dopo domani funzionerà ancora tra tre mesi funzionerà ancora cioè caratteristiche di conformità che avevo all'inizio sono in grado di mantenere nel tempo idem per un servizio ho attivato la DSL quando ho firmato funzionava il giorno dopo non funziona più allora una conformità che c'era al momento dell'attivazione al tempo zero si mantiene o non si mantiene nel tempo? e questo lo possiamo andare a misurare come? beh possiamo andare a misurare questo poi dipende ovviamente dal tipo di bene o dal tipo di servizio ci sono alcuni beni ad esempio che funzionano per un certo periodo e poi smettono di funzionare punto e prendo il butto oppure beni che funzionano per un certo tempo smettono di funzionare li posso riparare e allora ricominciano a funzionare li riporto in conformità questo è in particolare sui servizi è così io ho un servizio funziona domani non funziona domani non funziona più ma magari lo ripristinano rifunziona di nuovo e così via e quindi abbiamo un'alternanza di periodi di tempo in cui il prodotto è conforme nel tempo e di intervalli di tempo in cui invece non lo è non è conforme per alcuni aspetti allora in questo caso se ragioniamo in termini di tempi possiamo misurare il time to failure che è il tempo che intercorre da quando il prodotto entra in servizio quindi il bene viene venduto o il servizio viene attivato fino a quando cessa di essere conforme quindi il terrore di tempo fino al primo momento in cui fallisce in quel momento in cui non funziona quanto dura questo intervallo? se il prodotto non è recuperabile non è riparabile quella è la vita utile del prodotto e quindi è l'unico dato che mi serve esempio classico l'hard disk voi comprate un hard disk e lui ha una certa vita utile di 20.000 ore o un numero di questo genere dopodiché statisticamente ti aspetti che lui muoia quando l'hard disk si rompe non c'è altro da fare che buttarlo via non si ripara ok? per quello che bisogna avere il backup sempre perché quel giorno potrebbe essere oggi tornate a casa accendete il computer e non parte io ogni tanto ci tengo a a dire queste cose perché poi uno non ci pensa pensa che le cose siano eterne eccetera no non è questione di sé è questione di quando quindi pensate se arrivate a casa se il vostro hard disk non c'è più non è più tra noi voglio che voi diciate non c'è problema una copia di tutto sicura ditelo e se no fate in modo che lo sia perché la tecnologia per farlo c'è vabbè ma non faccio il pippone adesso però fatevelo fate davvero stasera perché domani è troppo tardi ma da me è così se volete nel mio ufficio non ho una pila di dischi morti perché muoiono me ne posso regalare qualcuno da momento proprio basta essere tranquilli vabbè poi ci sono allora questo indicatore MTTF è il valore medio del time to failure ovviamente il valore medio non lo calcolo sul singolo prodotto perché quello che una volta morto è morto lo calcolo sulla popolazione dei prodotti che produco tenete presente che per un'azienda è anche molto difficile avere questa misura cioè se io ti vendo l'hard disk come faccio a sapere quando ti è morto cioè io ho venduto 10.000 hard disk l'anno scorso qual è l'MTTF dei miei prodotti che ho venduto dovrei fare dovrei vedere quanti sono morti dopo quanti giorni dalla vendita quante ore di funzionamento e fare la media facilissimo salvo che questi dati non li ho perché non è che il singolo utente del mio hard disk quando gli si rompe mi telefona e mi dice ah si è rotto oggi no non le so queste cose questo è uno dei problemi molto grandi per le aziende produttrici di poter capire cosa fanno i propri prodotti una volta sul campo allora di solito lavorano al contrario quando ti vendono un prodotto te lo vendono con una certa garanzia allora fino a quando è in garanzia loro sanno se ti si rompe perché tu glielo riporti a riparare o sostituire anzi poi di solito fanno in modo di produrre dei prodotti il cui la mttf sia maggiore di un'ora o due rispetto alla scadenza della garanzia e come fanno a misurarlo lo fanno su dei prodotti campione fanno degli esperimenti prendono un lotto di produzione lo mettono lo stressano il più possibile per capire quando si rompe questo la misurabilità nello smart del indicatore avevamo discusso sul fatto che sia facile sia fattibile la sua misura concettualmente lo so quando una disca è rotta semplicemente quel dato lì non arriva a chi l'ha prodotti a chi gestisce il processo di produzione allora per quello cercano sempre di proporre degli abbonamenti dei servizi eccetera per mantenere contatto adesso molti dispositivi telefonano a casa molti nuovi dispositivi elettronici periodicamente mandano informazioni alla casa costruttrice per dire cosa sta facendo come funziona come non funziona e sulla base di questo la casa costruttrice può valutare questi indicatori e quindi capire l'affidabilità dei propri prodotti questo è per i prodotti non riparabili per i prodotti riparabili abbiamo invece un MTTR che è il tempo medio teniamo conto anche del tempo medio per riparazione allora se la DSL va giù chiamo l'assistenza la riparano dopo un minuto un'ora o sei giorni questo è il tempo di riparazione il tempo per poter ripristinare la conformità del servizio oppure riparare il bene che si era guastato questo fa parte dell'affidabilità del servizio il fatto che si può capitare un problema ma il problema viene risolto comunque tempestivamente e se il prodotto è riparabile però poi si riromperà per forza nulla è eterno ok? e quindi questo ciclo conforme poi cessa di essere conforme va in riparazione poi ritorna a essere conforme si ripete tante volte allora mi posso chiedere con che periodo mediamente si ripete questo ciclo cioè il fatto che funziona time to failure funziona fino a quando non fallisce e poi non funziona fino a quando non viene riparato la somma di questi due termini mi dà il periodo medio con cui si succedono le operazioni di riparazione il rapporto tra mttr e mtbf mi dà la disponibilità del servizio cioè per quanto tempo sta spento rispetto alla durata di questo ciclo l'1% 2% 0,1% del tempo di solito nei contratti si firmano quando fate un contrato per un servizio spesso c'è un service level agreement la clausola SLA service level agreement che nel quale il fornitore si impegna a rendervi il sistema il servizio disponibile il 99,95% del tempo o 99,999% del tempo e cos'è questa percentuale? è il tempo di riparazione rispetto alla durata del ciclo di riparazione poi magari noi lo riferiamo a 365 giorni nell'anno e ci accorgiamo che 99,999 significa mezz'ora quindi in un anno intero ti puoi permettere mezz'ora o cose di questo genere quindi quante sono qualità del prodotto si c'entra il processo che ha la prodotto prima ma ormai il prodotto è fuori o il servizio è in fase di erogazione e vado a misurare quanto mantiene queste qualità che aveva all'inizio se non avrei considerato conforme nel tempo a seconda del tipo di prodotto o di bene chiaramente si comporta in modo diverso un altro tipo di qualità è quella più soggettiva cioè quanto è soddisfatto l'utente di questo servizio o di questo prodotto chiaro che se ha una affidabilità bassa la soddisfazione sarà bassa ma se anche avesse una affidabilità alta il prodotto funziona benissimo ma non mi piace ma fa schifo funziona tecnicamente è ineccepibile però non fa bene ciò che mi serve cioè se io ho comprato un mouse in cui nella descrizione tecnica c'è scritto il mouse ha un pulsante solo funziona solo su superfici di mogano è tutto conforme perfetto funzionerà per dieci anni però non lo posso usare non posso usare il testo destro non posso usarlo su questo tavolo che è di formica ma di per sé è conforme affidabile semplicemente io non sono soddisfatto magari sono pirla io che non ho letto bene ma questo rientra nella soggettività quindi ci sono degli elementi di soddisfazione dell'utente che non sono solo chiaramente ho fatto un esempio esagerato ma per far capire che gli elementi di soddisfazione dell'utente non sono solamente le caratteristiche tecniche di un prodotto ma sono un insieme molto più ampio di fattori che fa sì che il cliente sia soddisfatto o no del servizio o del bene che ha utilizzato questi sono molto difficili da valutare se non attraverso dei metodi soggettivi o dei metodi sociologici o cose di questo genere perché cercano di capire dagli utenti dall'uso che ne fanno dalle risposte che danno dei questionari da come ne parlano su twitter o cose di questo genere ci sono aziende che fanno la cosiddetta sentiment analysis non so se avete già sentito parlare che vanno a raccogliere tonnellate di commenti su facebook e twitter che parlano di un determinato prodotto e cercano di capire dalle frasi nelle quali il prodotto viene emozionato se la gente ne parla bene o ne parla male sono tutti i metodi è un modo come tanti di guadagnarsi la pagnotta facendo cose sulla cui affidabilità del risultato non c'è molto da dire non si sa se poi alla fine ha ragione o no però sono tutti i metodi che ci si cerca di inventare per riuscire ad avere un'informazione di nuovo che è costosissimo da ottenere soprattutto se parliamo nei casi servizi tutto sommato ce la si fa mi accorgo quante volte il cliente mi chiama l'assistenza per lamentarsi di qualcosa ma nel caso di un bene un bene di consumo una volta che è venduto io il cliente non lo conosco neanche non è neppure il modo per raggiungerlo figuriamoci per convincerlo a rispondere a miei domande ok ci siamo lasciati per martedì prossimo i KPI di servizio buona serata